... Camorra, sequestro di beni per 45 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti Faratelli, Gaetano e Silvestro Balivo, ritenuti imprenditori di riferimento del boss dei casalesi Michele Zagaria, della notizia aveva parlato in un tweet il ministro dell'interno Matteo Salvini. Universia di Arrischio, accuse a De Luca e sindaco. Rinunciare sarebbe una pessima figura per la città, detto il presidente dell'ANAC, Cantone, che ha partecipato al vertice in comune a Napoli. Il centrodestra contro il governatore De Magistris, paghiamo la loro incapacità. Benevento, Cappetta e il nuovo prefetto. Paola Galeone, trasferita da Benevento, il nuovo responsabile dell'ufficio territoriale del governo, è Francesco Antonio Cappetta. 63 anni, che conserverà anche la carica di commissario straordinario per Castelvolturno. Legge sull'abusivismo, Caldoro contro De Luca. Dopo la bocciatura della consulta, l'ex governatore accusa De Luca ha cambiato la legge ma ha sbagliato. Ma il presidente si difende, era una legge di buonsenso. Ora intervenga il Parlamento. Saldi, da domani si parte in Campania, ma molti negozi hanno già iniziato a praticare gli sconti. Per il commercio occasione di rilancio, le associazioni dei consumatori mettono in guardia dalle truffe. A Salerno attesa e divieti per la notte bianca. Ex Iris Bus di Maio presenta il piano. Spiragli positivi per l'ex Iris Bus dal tavolo di oggi al Mise. In Vitalia è un nuovo socio privato pronti a entrare nella società. Del Rosso farebbe bene un passo indietro. Cauta la FIOM CGL, soddisfatti i deputati Irpini 5 Stelle. Buonasera dal TG 696. In apertura c'è la cronaca. Camorra, maxi sequestro agli imprenditori del boss Zagaria. Sequestrati beni immobili e immobili per 45 milioni di euro. Vediamo il servizio. Beni mobili e immobili per un valore da 45 milioni di euro. Sono stati sequestrati tra Caserta e Frosinone ai fratelli Gaetano e Silvestro Balivo. ritenuti imprenditori di riferimento del boss dei Casalesi, Michele Zagaria. Della notizia aveva già parlato in un tweet ieri il ministro dell'interno Matteo Salvini. E sotto chiave sono finiti 100 immobili situati nei comuni di Sessa Orunca, Trentola Ducenta, Aversa e anche Fiuggi. I due balivo vennero coinvolti nell'inchiesta della DDA che nel 2015 travolse l'amministrazione di Trentola Ducenta con l'arresto dell'allora sindaco Michele Grifo e di altri amministratori in relazione in particolare alla realizzazione del centro commerciale Giambo ritenuto creatura del boss Zagaria. Per IPM l'amministrazione Grifo sarebbe stata pesantemente infiltrata dal clan, tanto da essere poi sciolta per infiltrazioni camorristiche. In tale contesto si inserirebbero le figure dei fratelli Balivo che per gli inquirenti avrebbero raggiunto una posizione di spicco nel settore dell'edilizia e dei prodotti per l'ortopedia grazie all'appoggio del sodalizio. Gaetano, 57 anni, un ruolo chiave nel 2015 viene accusato di associazione camorristica per il rapporto fiduciario con Zagaria, protrattosi durante tutto il periodo della latitanza del boss durata oltre 15 anni. Negli anni è poi venuto alla luce anche il ruolo altrettanto importante del 64enne Silvestro, prima accusato di concorso esterno, poi grazie alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia di essere organico al clan, tanto da diventare tra i principali imprenditori nel settore del movimento terra, da sempre core business del clan Zagaria. Un tragico incidente, una distrazione, forse una manovra azzardata. Un giovane di 18 anni di Villa Ricca, Armando Roselli, è morto dopo aver impattato contro una Smart con a bordo due ragazze che stavano rincasando. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, il ragazzo si trovava a bordo della sua moto e percorreva Corso Italia. Secondo una prima ricostruzione, pare che stesse sorpassando la macchina e che l'automobilista a sua volta abbia svoltato per entrare nel vicoletto di casa. Probabile che Armando non sia riuscito a frenare in tempo e che non si sia accorto della sterzata della giovane alla guida. Rinviare le universia di Sarebbe una pessima figura per Napoli, lo ha detto il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che stamattina ha preso parte alla riunione della Commissione in Consiglio Comunale. Intanto riprende il dialogo tra Comune e Regione, mentre il commissario Latella cerca la seconda nave per gli atleti. Vediamo. Se Comune di Napoli e Regione riusciranno a sciogliere il nodo relativo al villaggio degli atleti, le universia di Sifaranno. L'appello giunge dal presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che questa mattina è stato a Palazzo San Giacomo per la riunione della Commissione Consigliare sui giochi olimpici. Il tempo stringe. Tra una settimana bisogna tornare a Roma, nella cabina di regia, e portare al governo una soluzione che metta d'accordo tutti gli interlocutori, a partire dal governatore De Luce e dal sindaco De Magistris, che sull'utilizzo della mostra d'oltremare la pensano in maniera diametralmente opposta. Ma non possiamo rischiare di perdere l'evento, dice Cantone. Io non credo che si possa rinviare, l'unica cosa che credo sia veramente complicata è rinviare. Ci sono ancora dei problemi, però adesso abbiamo una data oltre la quale non si può andare, che è quella di venerdì prossimo. Se entro venerdì prossimo, Comune e Regione scioglieranno il nodo di individuare i luoghi entro i quadri dove si possono sistemare gli atleti, le universiari si faranno. Se questo non dovesse capitare, io credo che Napoli debba rinunciare e non sarebbe oggettivamente una bella figura per la città e la Regione. Cantone cita l'esempio positivo di collaborazione istituzionale che si è creato a Milano, tra il sindaco e la Regione, per l'Expo, sebbene fossero espressioni di parti politiche di diverso colore. Tentativi di avvicinamento tra le posizioni di De Luca e De Magistris in queste ore sono stati fatti a mediare, sono i vice Bonavitacola e Auricchio. Il commissario Latella, anche per impedire che il governo la sostituisca con un super commissario di nomina pentastellata, batte l'ipotesi delle navi, così come è stato chiesto da Roma, dove ha prevalso la linea della Regione. Intanto, da Forza Italia, arriva la nota del capogruppo regionale Armando Cesaro, per il quale pagheremo comunque, a caro prezzo, ma nei fatti stiamo già pagando, i costi non solo economici, delle non scelte e dell'incapacità di De Luca e De Magistris, che hanno avuto ben tre anni di tempo per decidere e non lo hanno fatto. Cambio al vertice alla prefettura di Benevento, dopo oltre quattro anni trascorsi nel Sannio, il prefetto Paola Galeone viene trasferita al palazzo del governo di Benevento, arriva invece Francesco Antonio Cappetta, 63 anni, attuale commissario straordinario per l'area del comune di Castelvolturno, un incarico che il neoprefetto del Sannio manterrà e che gli era stato conferito dal Ministero dell'Interno un anno fa per far fronte all'emergenza immigrati in terra di lavoro. Dopo lo stop della consulta sull'abusivismo di necessità, De Luca difende la legge, fa appello al governo a trovare una soluzione. Non possiamo abbattere 70.000 abitazioni da centrodestra, l'attacco di Caldoro che dice centralismo scriteriato. Vediamo. Dopo la sentenza della consulta che ha bocciato la legge della Regione Campania sul cosiddetto abusivismo di necessità, non si sono fatti attendere le polemiche politiche. Per il capogruppo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, Stefano Caldoro, De Luca ha cambiato la legge sui condoni per poi essere bocciato dai giudici. Uno scriteriato irresponsabile, furore centralista, l'atto d'accusa dell'ex presidente Campano che parla di passo indietro su una materia delicata e che interessa da vicino migliaia di cittadini campani. Dal canto suo il governatore, nel consueto appuntamento settimanale sull'Ira TV, difende la legge e passa la palla al governo che dovrà pronunciarsi sulla materia. Così facendo noi rimaniamo bloccati senza fare niente. Quindi è necessaria una legge nazionale a questo punto che regoli la materia. Ci sono alcuni immobili abusivi che non possono essere sanati per nessuna ragione. Quelli costruiti in zone idrogeologicamente pericolose, in zone di vincolo assoluto, realizzati da imprese della Camorra, cioè 70.000 alloggi abusivi solo in Campania, non possono essere demoliti. Ma soprattutto, illudendoci di aver difeso l'ambiente, lo abbiamo rovinato ancora di più. Ad esultare per la decisione dei giudici sono le associazioni ambientaliste che avevano contestato da subito la strada intrapresa da Palazzo Santa Lucia sull'abusivismo di necessità. Soddisfatte, si dicono un po' tutte le associazioni di categoria, a cominciare da Lega Ambiente WWF, che parlano, senza mezzi termini, di vittoria della legalità, anche se resta da sciogliere il nodo, tutt'ora irrisolto, dell'emergenza abitativa. Ad escavano facoltosi clienti stranieri attraverso il web, rifilando loro fantomatici veicoli di lusso d'epoca. Poi sparivano nel nulla dopo aver intascato i soldi. I carabinieri di San Valentino Torio hanno dato esecuzione a un'ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera, che ha smantellato un'organizzazione collaudata. Nove le persone iscritte nel registro degli indagati. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata alle truffe e riciclaggio. Le vittime erano per lo più francesi e tedeschi. Almeno 12 le truffe accertate, ma il numero potrebbe crescere con il prosieguo delle indagini. Un giro d'affari legale di oltre un milione di euro. A capo del sodalizio un 66enne e suo figlio. Nel corso del blitz sono stati sequestrati anche beni per 300 mila euro. I saldi da domani ufficialmente partono in Campania, super occasioni per consumatori e commercianti, anche se la maggior parte degli esercenti aveva offerto i capi già scontati. In Campania, come nella maggior parte delle regioni italiane, i saldi estivi cominceranno domani per una durata di 60 giorni di calendario. Lo studio di Confesercenti rileva anche che i saldi per 7 negozi su 10 saranno un tentativo per recuperare un avvio danno negativo. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro. Quest'anno le offerte saranno più sostanziose del normale. Il 68% delle imprese inaugurerà le vendite di fine stagione con riduzioni del prezzo tra i 30 e il 40%, mentre l'11% degli imprenditori si spingerà anche sopra questa soglia. Anche per le piccole e medie imprese iscritte a Confesercenti, Campania e Molise, i saldi estivi sono una grande opportunità per dare ossigeno alle aziende in perenne crisi economica, con il recupero dei mancati incassi dei primi sei mesi dell'anno. In tal senso si innesta l'appello di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, Campania e Molise. Le nostre aziende contano di recuperare i mancati incassi dei primi sei mesi, in cui c'è stato un netto calo dopo una discreta ripresa di fine 2017. Tuttavia l'invito che lanciamo ai consumatori spiega è di spendere nelle attività commerciali sotto casa, in modo da evitare un tracollo già in atto da alcuni anni. Nel Meridione, con la nostra regione in testa, c'è maggiore aspettativa ai suoi saldi. Le persone aspettano questi periodi dell'anno per completare l'armadio. La voglia dell'affare è confermata anche dalle intenzioni di acquisto. Oltre la metà dei consumatori del Sud vuole usare i saldi per accaparrarsi i capi più convenienti, mentre il 36% punta alla qualità. Notte bianche e saldi a Salerno, un'opportunità importante per il commercio. La Confesercenti stima una spesa media nella provincia salernitana di 85 euro a persona. Un weekend all'insegna dello shopping a Salerno, appuntamento con la Notte Bianca e con l'inizio dei saldi estivi. La Confesercenti stima una spesa media nel Salernitano di circa 85 euro a persona, ma mette in guardia dalle truffe, dai prodotti contraffatti e dall'e-commerce non garantiti dalle associazioni dei consumatori. Certamente è un'iniziativa valida e come tutte le iniziative noi siamo entusiasti e parteciperemo attivamente. Ci aspettiamo di poter lavorare tanto, soprattutto perché è il primo gioco dei saldi, per cui sicuramente le aspettative sono positive. Siamo coinvolti, però si riscontra dal punto di vista commerciale, non so se allungare gli orari e portare un orario diverso possa avere grossi vantaggi. Cosa si aspetta anche dai saldi? Ma i saldi, come tutti gli anni, hanno un grosso interesse da parte dei consumatori perché è il momento dove si fanno gli affari, per cui diventa interessante per questo tipo di aspetto. Diciamo che l'utente in questo momento è particolarmente difficile, è attento al prezzo ed è invogliato tantissimo dalle vendite a saldi. Quindi è giusto abbinare le due iniziative in modo da incrementare anche un po' i volumi di affare. I saldi, specialmente le prime settimane, sono un momento importante per cui molte persone attendono per fare uno shopping più intenso. Una percentuale, diciamo, interessante perché si acquista sostanzialmente il superfluo, cioè nel senso che magari ciò che è da conservare per l'anno successivo. Spiragli positivi per l'ex Irisbus dal tavolo di oggi al Mise. In Vitalia è un nuovo socio privato, pronti a entrare nella società del Rosso, farebbe un passo indietro, cauta la FIOM CGL, soddisfatti deputati Irpini 5 Stelle. Si avvicina una soluzione per l'ex Irisbus, quanto emerso dal tavolo di crisi al Mise, dove era presente il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio. In Vitalia sarebbe pronta ad entrare in azienda con il fondo PMI Sud e con Finmeccanica avrebbe il 51% delle quote, insieme ad un altro investitore privato interessato. Per arrivare così ad una soluzione definitiva che consenta stabilità del lavoro per gli stabilimenti di Bologna e Flumeri e lo sblocco degli investimenti. La FIOM, sempre molto critica, apre uno spiraglio. La proposta di Di Maio può essere una soluzione. Bisogna portare immediatamente o quanto prima le attività produttive qui in Irpinia o meglio in Italia. Perché il concetto è trovare la soluzione per il lavoro, non continuare a trovare la soluzione per gli ammortitori sociali. Questo a noi come FIOM non gli interessa. L'auspicio ha invece commentato il segretario generale Will Mavellino, Gaetano Altieri, e che nelle prossime settimane si dia concretezza ai propositi del governo. Già troppe volte siamo tornati da Roma con tante speranze, poi non realizzate. Per Centrella, Cisal Metalmeccanici, la proposta del governo è un valido punto di partenza. Soddisfazione espressa dalla deputata irpina dei Cinque Stelle, Maria Pallini. Con grande senso di responsabilità, scrive in una nota, il Mise si farà carico anche di cercare soluzioni per prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza a dicembre, come sollecitato anche dall'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri. Mentre l'altro deputato pentastellato, Generoso Maraia, avverte, verificheremo nel minimo dettaglio la solidità economica del nuovo investitore, poiché non vogliamo assolutamente consegnare lo stabilimento all'ennesimo del Rosso. Un detenuto del carcere minorile di Airola ha tentato il suicidio ma è stato fortunatamente salvato dagli agenti in servizio presso l'Istituto di Pena della Valle Caudina. Protagonista del gesto, un giovane di nazionalità rumena che dopo aver arrotolato delle lenzuola ad una grata della finestra si è lasciato cadere rischiando di rimanere soffocato. Per fortuna gli agenti sono intervenuti, lo hanno immediatamente soccorso e trasferito al rumo di Benevento per essere medicato. A denunciare l'ennesimo tentativo di suicidio nelle carceri è il SAP, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria che riaccende riflettori sulla carenza di personale anche all'interno dell'Istituto di Pena Minorile di Airola dove in questo periodo sono in servizio solo 4 agenti per ogni turno di lavoro. Prima l'inchiesta e gli arresti per la gestione dei centri migranti ora il consorzio finito nel minilio della procura sannita decide di chiudere alcuni centri di accoglienza. Avviato oggi il trasferimento degli immigrati. Vediamo. Sono 180 i migranti trasferiti da Benevento ai centri di accoglienza di Caserta e Salerno. Lo ha deciso la prefettura sannita dopo che nelle ultime ore i responsabili del consorzio Maleventum avevano allertato il palazzo di governo per non riuscire più economicamente a gestire le strutture di Montesarchio e Castelvenere di qui la decisione dei trasferimenti. Il prefetto di Benevento ha finalmente applicato le clausole di salvaguardia dichiarato il sottosegretario di Stato all'interno Carlo Sibilia. La provincia di Benevento così come quella di Avellino ha ospitato migranti per un valore quasi tre volte superiore alla percentuale prevista contribuendo in modo significativo alla gestione dell'emergenza migratoria che fino a qualche settimana fa tanagliava il nostro paese ha poi concluso il sottosegretario e sulla vicenda in mattinata era intervenuta anche la CGL che nei mesi scorsi aveva presentato una denuncia che aveva dato il via alle indagini. La prefettura per il tramite del prefetto ha ritenuto opportuno trasferire questi migranti in altri centri di accoglienza naturalmente su questo siamo perfettamente d'accordo in linea ci pare molto strana la questione sollevata dal consorzio Maleventum visto che dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il consorzio ha incassato 10 milioni di euro e 122 mila euro essendo quindi un'azienda dovrebbe avere le risorse per poter anticipare la propria attività per poi recuperare i pagamenti dalla prefettura. Nel giorno della stretta supermissi umanitari decisa dal governo il comune di Salerno scopre una targa commemorativa per le 26 migranti morte in mare. Il sindaco rivendica che la nostra è una città che accoglie ma che chiede il rispetto delle regole. Una città porto di arrivo finita la ribalta nazionale quando dall'ennesima nave carica di migranti smarcarono anche i corpi senza vita di 26 donne africane. Da allora Salerno ha voluto tenere vivo il ricordo di quelle ragazze alcune pronte a diventare madri prima con l'installazione di un'opera di Pietrolista ed oggi con una targa commemorativa all'interno del cimitero monumentale che riporta la poesia scritta dall'ex insegnante pedagogista Margherita Caso in memoria delle 26 vittime del mare. Fanciulle, erano tutte giovanissime dai 13 ai 19 anni questo come mamma, come persona mi colpì tanto da mettere poi su carta le mie emozioni le mie riflessioni da qui poi la poesia C'è sicuramente grande preoccupazione rispetto a questa circolare insomma prodotta dal Ministro noi continueremo ad essere attenti rispetto a questa tematica dell'accoglienza l'abbiamo dimostrato in questi anni con i 21 sbarchi che ci sono stati e sicuramente la nostra attenzione resterà per quelle persone che sono rimaste nella nostra città e che stanno vivendo l'integrazione vera. Far valere uno dei principi cardine della nostra amministrazione che è quella della civiltà dei rapporti della civiltà in senso lato della accoglienza della possibilità della convivenza civile della capacità di offrire possibilità di rivalza e di crescita da parte dei nostri ospiti di ogni natura e di ogni colore e quindi un gesto ulteriore che noi facevamo a ricordo di queste giovanissime vittime che ancora hanno lasciato una ferita aperta nel nostro cuore. Mercatone, vecchio ospedale Maffucci ad Avellino, il sindaco Ciampi e gli alleati si confrontano sui primi argomenti. Ad Avellino si inizia a entrare nello specifico dei temi per il rilancio della città. Il sindaco Ciampi interviene sul caso Maffucci. Sollecitiamo i vertici del Moscati e della ASL a soprassedere prima di decidere circa un eventuale spostamento di alcuni uffici ASL presso il vecchio ospedale Maffucci. Per questo chiederà un incontro urgente a Percope e alla Morganti affinché di comune accordo si possano trovare le soluzioni più adeguate per venire incontro alle esigenze di tutti. Fermiamoci un attimo e proviamo a ragionare anche in ordine al futuro utilizzo dell'ex ospedale Moscati di Viale Italia. Intanto Dino Preziosi presenta le sue proposte a Ciampi fa ripuntati soprattutto sull'urbanistica e sul mercatone. Deve essere un parcheggio multipiano dove si allarga la pedonalizzazione anche di altre zone della città bloccando tutte le macchine che arrivano dalla zona est di Avellino possono queste macchine cioè le persone che arrivano rivitalizzare tutta la zona di Vedevo Principati via Ferriera, via Cascino che ormai è una zona molto sofferente ma soprattutto essendo quella una zona fatta anche di vecchie abitazioni prive di garage si potrebbero dare a un canino sociale cioè a un 20-30 euro al mese la possibilità ai residenti di parcheggiare di custodire le macchine all'interno di questo multipiano riducendo anche quella che è la microcriminalità cioè i famosi furti alle autovetture di notte. Poi chiarisce quale sarà il suo atteggiamento in Consiglio Comunale con un avvertimento Se non c'è condivisione su un programma unico per quello che mi riguarda io approvo solo i punti che vanno nell'interesse della città ma che ritengo io che vado nell'interesse della città Ottanta nuovi infermieri e venti operatori sociosanitari in arrivo negli ospedali della provincia di Salerno lo ha annunciato il commissario Asl Mario Iervolino Si rimettono in moto le assunzioni nella sanità salernitana con un provvedimento ad hoc l'asla di Salerno ha dato il via libera ad un piano che prevede l'ingresso in servizio di 109 unità professionali tra infermieri e operatori sociosanitari ad annunciarlo il commissario straordinario Mario Iervolino Adesso ci adopereremo per fare immediatamente un certo numero consistente di chiamate per definire un percorso in questa fase a tempo determinato per poi definirlo successivamente a tempo indeterminato 80 infermieri professionali e 20 OSS sicuramente sugli ospedali più accorsati tipo Nocera, Vallo e gli altri che danno un'emergenza idea di primo livello Le parole della guida dell'asla arrivano a margine della presentazione dell'iniziativa La salute arriva con punti di soccorso sorveglianza balneare in 20 comuni a disposizione dei turisti fino al 31 agosto anche un defibrillatore e se necessario servizi di 118 sulle spiagge della costiera amalfitana e cilentana Non soltanto il camper anche un'assistenza specifica giornalire dalle 9 alle 18 sulle spiagge della costiera amalfitana e della costiera cilentana di tutta la zona di Salerno nella provincia di Salerno dove il personale del 118 e i volontari delle varie associazioni si adopereranno per dare sicurezza e tranquillità e un'assistenza diretta ai cittadini delle nostre spiagge Prosegue la carella tra il sindaco Clemente Mastella e il direttore generale dell'ospedale Rummo di Benevento la fascia tricolore replica l'ospedale è in condizioni disastrose Pizzuti la sua replica mi convince ancora di più della sua incompatibilità con la città Clemente Mastella risponde al direttore generale del Rummo di Benevento riguardo all'esodo dei primari alle condizioni difficili che vive il nosocomio Sanita Un direttore generale che voglio dire scambia il pensionamento che non è pensionamento come quello di Elio Franco e gli ha anche replicato dicendogli ancora due anni davanti a me due anni e mezzo ma che direttore generale che non conosce neppure non è domestico e ha dimestichezza con i problemi dei suoi primari cioè questa è l'incommodità ambientale che io riscontro poi può essere anche uno scienziato per uno scienziato che forse se opera in California è meglio di quanto sta operando qua da noi a Benevento a Benevento è l'ospedale nella condizione drammatica cioè dire questo e fare la fotografia di questo significa mettere in cattiva luce l'ospedale come se al medico si attribuisce la malattia e il medico vuole la malattia io sto dicendo ma andiamo via questo mettiamoci tutti impegniamoci come istituzioni è la conduzione che va male la guida che non trova riscontro forse è arrivato qua con l'idea della conquista di dare in partire lezioni all'aso della città di Benevento con l'idea un po' invasiva che non è la nostra la dichiarazione arriva a margine dell'incontro per l'annuncio dell'informatizzazione dei servizi cimiteriali conferenza in cui il sindaco ha anticipato anche l'artista che aprirà la prossima edizione di Città Spettacolo tocca a Fiorella Mannoia che il 25 agosto si esibirà sul palco di Piazza Castello Dal Tg 696 è tutto grazie di averci seguito vi lascio alle previsioni in media di Città Spettacolo di Città Spettacolo di Città Spettacolo